Ricchete racchete, ricchete racchete, ricchete racchete racchete, ricchete racchete racchete 8-19 minuti 25 secondi è il momento della Coppa Rimetti Oh mamma mia Eh sì, il campionato va avanti amici Abbiamo due brani, tutti nuovi nuovi È incredibile come brani adatti alla Coppa Rimetti zampillino continuamente Vengano proposti continuamente dai radioascoltatori, ve ne siamo grati Proponeteci il brano che pensate sia degno di partecipare a questa ormai antica manifestazione Mandateci una mail a coniglio chiocciolarai.it allora il primo brano che ascoltiamo è un brano di Tonino Siena Tonino Siena e si intitola Sono Solo Un Uomo quasi aveste dei dubbi dopo averlo sentito cantare vai Tonino non sbagliavo mai non credevo che bastasse un attimo per finire una storia d'amore ecco tante volte non finisce in rima che confusione sarà perché ti amo un po' di confusione c'è Daniela Manuela Daniela o Manuela? Sono Solo Un Uomo il mio mondo è piccolo ma chi è? chi è lei scusi? no tu sei Tonino sì ma come Manuela Daniela sono Solo Un Uomo il mio mondo è piccolo sono Solo Un Uomo il mio mondo è piccolo e che vuoi se ce l'hai piccolo? ma il mondo il mondo piccolo allora lei si deve decidere se fa una canzone d'amore o Manuela o Daniela però non è che la tua schiena che eh la schiena sul divano ble sul divano ble si abbandona a me lo facciamo eh come fossimo cani ma come fossimo cani ma che cani? la tua immagine sì qui davanti a me ma chi è lei scusi? ma non mi fa illudere assomiglia eh troppo a quella di Dani Dani e chi è Dani? Daniela e va bene Daniela va bene Manuela sì ma si decida però sono Solo Un Uomo il mio mondo è piccolo è un uomo un po' confuso molto confuso sì scelga però eh va bene Manuela va bene Manuela dai ma no e allora allora tu sono Solo Un Uomo il mio mondo è piccolo grazie grazie è un dramma Tonino Siena ed il suo dramma diciamo allora chi è lo sfidante di Tonino? è Charlie Moore Charlie Moore addirittura un artista internazionale che canta Gioco con la neve e allora vai Charlie ho giocato sulla neve bene con la mia cara con la sua cara ti ho lanciato le palle di neve addosso per la prima volta ho fatto una piccola passeggiata con te sulla neve sulla neve mamma mia e i sanitari che dicono? e poi ci siamo seduti al parco bene abbiamo piacchierato insieme il parco della clinica diciamo gioco con la neve sì gioco con la neve abbiamo capito con la mia cara con la tua cara benissimo non ti stiamo contraddicendo però fai un pazz di neve no? ci siamo divertiti a disegnare in cuore sulla neve bravi bravi con c più ipnos è uguale ci vogliamo bene sì lascia lo sa non lo contraddire va bene Charlie va bene ci siamo sporcati di neve certo ma non è grave io e la mia cara siamo degli sporcazioni di neve sporcazioni di neve di neve oggi un bello scontro non sarà facile scegliere tra i due chiamate chiamate l'800 050 222 e votate da questo momento ne avete il coraggio pronto buongiorno pronto pronto dica sappiamo che sei lì guarda che ecco la prima la prima sono solo un uomo grazie ciao buona giornata grazie 1 a 0 per Tonino pronto buongiorno buongiorno ragazzi io potrei senza altro per la seconda seconda quindi gioco con la neve pareggia grazie grazie pronto buongiorno buongiorno decisamente la seconda è orribile gioco con la neve passa in vantaggio è orribile questo è il commento pronto buongiorno pronto buongiorno buongiorno la seconda fa schifo è la seconda è la seconda passa il turno grazie grazie Charlie Moore Charlie Moore un artista interessante della new wave italiana che si afferma lo riascolteremo gioco con la neve Charlie Moore ricordatevi questo nome la new wave italiana questa è la new wave evidentemente la new wave italiana grazie a tutti grazie a tutti